Lato corto dell'area di rigore, Castiglieco, rete, il Milan in vantaggio, il Milan è passato in vantaggio al 26esimo minuto con un cross basso potente di Cialanoglu, è intervenuto Castiglieco e ha depositato il pallone in rete, è stato bravo Castiglieco perché non era semplice controllare, soprattutto Gione, rete, pallone sulla sinistra di Donna Rumma che si è mosso pochissimo in ginocchio, rincorsa lenta da parte di Mancosu che firma così il nono gol in campionato, il Lecce pareggia al nono minuto della ripresa, Lecce 1, Milan 1, Firenze, torna in vantaggio il Milan, torna in vantaggio il Milan con Jack Bonaventura che ha ripreso una respinta corta delle portiere del Lecce Gabriel su conclusione di Cialanoglu, il gol sembra essere, riesce a far filtrare il pallone all'interno dell'area di rigore, viene respinto da Rognoli, contropiede Rebic a tutto campo, a campo aperto, ante Rebic, rincorso la saponara, tu per tu con Gabriel, rete, 3 a 1, micidiale contropiede del Milan e qui errore, errore di ingenuità da parte del Lecce, se Lecce è la peggiore difesa del campionato, aveva iniziato la partita con 56 gol subiti, ora è già a quota 59, un motivo ci sarà, lo abbia il cross, il controllo è di Conti, cross e leao, di testa, per il poker rosso-nero, il gol al primo pallone della partita, è già toccato, intuffo di testa, leao per il gol.